ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al nuovo hamilton chi mi segue avrà visto il mio video durante il quale sono andato a milano all'aeroporto di bresso alla presentazione di questo nuovo pilot il khaki aviation pilot di hamilton nuova presentazione nuovo modello appena uscito mi hanno invitato all'evento sono andato e mi hanno anche omaggiato dell'orologio stesso io l'ho scelto da 42 perché sono usciti in due in due versioni da 42 da 36 per la prima volta da 36 mm un pilot in casa hamilton che non era mai successo questo per accontentare anche coloro i quali chiedono sempre i diametri più contenuti io ho scelto quello da 42 mm perché secondo me rappresenta al meglio la filosofia di orologio pilot da aviazione no 42 43 44 45 devono essere grandi questi orologi qua non possono essere piccoli nulla vieta poi di preferire il 36 mm però diventa un altro orologio non è più un pilot è un orologio compatto da tutti i giorni con similitudine ad un orologio da aviazione diciamo così ora chiaramente la mia video recensione sarà abbastanza come dire condizionata dal fatto che me lo hanno regalato è un omaggio quindi voi spogliate tutto il mio entusiasmo cercate di smagrire e poi siete anche abbastanza grandi grandi e vaccinati riuscite da soli a capire a vedere io vi metto lì tutte le fotografie tutte le caratteristiche tecniche la mia opinione poi voi da soli riuscirete sicuramente a capire se l'orologio vale quello che costa se può rientrare nei vostri gusti e se può essere una aggiunta alla vostra collezione occorre dire che non sono i primi pilot di emilton è un è un modello che da sempre è nella linea di emilton vi ricorderete anche l'interstellar il famoso interstellar che divenne famoso per essere stato protagonista del product placement nel film stesso di interstellar quindi ci fu un hype veramente un grosso una grossa corsa all'acquisto e fu uno degli orologi più venduti poi ce n'erano anche altri da anche da 45 mm da 46 oppure con il day date a ore 12 insomma è un modello che attraversa la storia di emilton per lungo tempo e ora c'è questa sorta di restyling come vedrete pur rimanendo negli stilemi classici a qualche cosa di differente rispetto al passato poi se mi capiterà l'occasione al primo video in negozio vi mostrerò con calma perché l'ho mostrato anche nel video a milano ma insomma eravamo un pochino così veloci non erano tutti a disposizione per me quando saremo a negozio vi mostrerò quello da 36 dall'amico giacomo la gioielleria pasquale domenici che è concessionaria del marchio quindi ce li ha già a disposizione nel momento in cui sto registrando ce li ha già lo so prossimo video che andrò a fare in negozio vi mostrerò anche il 36 per benino al polso con tutte le sue belle caratteristiche una recensione non la farò perché facendo questa qua da 42 diciamo che sarebbe un doppione no non ha senso però mostrerò nel negozio ma adesso basta con i discorsioni altro da dire non mi sembra ah no l'orologio del giorno oggi l'orologio del giorno è questo bellissimo rolex explorer 39 mm il modello che è uscito di produzione adesso c'è il 40 il suo con il caribbo 31 32 se non mi sbaglio un orologio everyday watch il classico orologio che sta bene con tutto che mi piace molto 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 tutto opaco ci piace adesso giriamo la camera diamo un occhiatella a questo nuovo emilton aviation pilot e poi torniamo qui come a solito per le mie considerazioni personali come usualmente accade in questo canale iniziamo con il riportare le misurazioni diametro cassa 42 mm spessore 12.3 ingombro trasversale al polso 50.6 mm e interasse ansa da 20 misure perfettamente in linea con lo spirito dell'orologio un pilot ben presente al polso che ricalca gli stilemi avviatori e che vuole e deve essere ben leggibile in qualsiasi situazione di volo come detto chi desidera un orologio differente può optare per la versione da 36 ma questo da 42 deve essere così stilisticamente parlando ci troviamo di fronte all'usuale tool watch dedicato all'aviazione orologio nel quale la sportività rappresenta chiaramente un segno distintivo lo si evince palesemente sia dalle forme che dai contenuti innanzitutto una cassa che si differenzia dalle precedenti versioni soprattutto per l'assenza di quelle evidenti smussature sulle anse molto belle a vedersi ma forse meno adatte allo spirito aviation rispetto a quelle del modello nuovo oggi le troviamo semplici ed essenziali tagliate quasi di netto e soprattutto completamente spazzolate sia lateralmente che sul dorso vi è ancora qualche concessione alle forme dolci in quanto nel momento in cui si trasformano in spallette di protezione lo vanno a fare in modo e maniera da restituirci una geometria quasi arrotondata priva di spigoli incisivi e questo è un altro segno distintivo della sportività dell'orologio sì proprio le spallette di protezione che vanno chiaramente ad indicarci che l'utilizzo primario dell'orologio può essere anche quello quotidiano quello nel quale il rischio di urti è dietro l'angolo a conferma di ciò vi è anche l'impermeabilità dichiarata di 100 metri un dato positivo che consentirebbe il suo utilizzo anche in acqua senza timore personalmente non lo porterei al mare non perché la corona pressione non sia adatta ma semplicemente perché lo stile non è adatto in ogni caso sappiate che sarebbe possibile utilizzarlo nella maggior parte delle situazioni acquatiche dell'uomo comune osservandolo di profilo poi si notano alcuni dettagli interessanti in primis la sopracitata spazzolatura longitudinale ed in secundis la forma arcuata della cassa che volge dolcemente verso il basso questo favorisce l'indossabilità ma tenete presente che la maglia centrale del finale è semi rigida di per sé contribuisce quindi ad aumentare il lag to lag percepito per contro volge nettamente verso il basso di circa 60 gradi seguendo quindi anatomicamente la curvatura del polso per i polsi medio grandi non dovrebbe essere quindi un problema un altro punto forte è lo spessore generale 12.3 mm spalmati su di un lag to lag del genere rendono il profilo particolarmente filante e non è un fattore da sottovalutare tra l'altro è anche la luneta ad essere poco sporgente poco sporgente ma che cerca di attirare l'attenzione presentando l'unica superficie lucida a vista una sottile parete verticale che circonda la lunetta prima di inclinarsi di 45 gradi verso il vetro e qui è da segnalare che nella vista dall'alto la lunetta stessa appare più larga rispetto alle precedenti versioni in quei modelli la sensazione fligger tutto quadrante era più accentuata qui invece ci troviamo di fronte ad una superficie vetro quadrante inferiore vetro zaffero che finalmente gode di un adeguato trattamento antiriflesso lo si vede chiaramente dalle riprese e dal vivo è ancora più efficace leggibilità quindi garantita sia dal trasparente che dalla disposizione degli accenti sul quadrante un fondo blu opaco sul quale spiccano in bianco gli elementi deputati alla lettura dei dati indici dei minuti posizionati su reo a 45 gradi che danno subito la sensazione di pienezza senza però creare confusione numeri arabi riportanti l'intervallo di tempo dei 5 minuti doppiati all'interno dalle cifre su base oraria e gli indici ai quarti che chiaramente delineano una certa simmetria generale simmetria purtroppo spezzata dalla finestra day date che rompe sul dial senza remore di sorta personalmente avrei apprezzato maggiormente un quadrante privo di giorno e data come sul modello da 36 ma tant'è tra l'altro il modello precedente da 42 riportava la finestra giorno ad ore 12 e quella data ad ore 6 era solamente il modello da 46 millimetri ad avere lo stesso posizionamento di questa nuova versione a proposito di differenze occorre segnalare il triangolo di riferimento posto ad ore 12 in questo caso ha il vertice posizionato verso l'alto mentre in tutti i modelli precedenti era al contrario potrebbe essere un sistema veloce ed intuitivo per riconoscere i vecchi modelli dai nuovi lasciatemi poi spendere due parole a riguardo del gioco sfere che ritengo particolarmente apprezzabile mi piace da sempre quando si riesce a dimensionare la sfera secondi come in questo caso la freccia terminale sembra quasi sfiorare la lunetta ed è nota una certa cura del dettaglio un voler fare le cose con le corrette proporzioni allo stesso modo le altre due lancette appaiono correttamente dimensionate e rifinite sono ad aga e scheletrate a pattern inverso e c'è un motivo quella dei minuti più grande va a toccare la parte inclinata del reo in modo da leggere perfettamente il minutaggio da monitorare quella ora invece presenta una scheletratura speculare in modo da permettere alle cifre sottostanti di poter essere lette attraverso la spaziatura venutasi a creare sono chiaramente dettagli inutili ai più ma ripeto denotano una certa attenzione e coerenza agli scopi a cui questo orologio è dedicato occorre dire che non tutto il bianco presente sul quadrante corrisponde a luminescenza solamente le lancette e gli accenti ai quarti risultano reagire alla luce più che sufficiente per monitorare i tempi senza errori di base considerata la differente foggia delle sfere e dei markers anche se occorre un po di fantasia per quella ore in quanto manca l'estremità della lancetta deputata ad indicare tale tempo nota margine si tratta di superluminova x1 l'ultimissima versione del noto pigmento luminescente tendente al verde pare che presenti anche caratteristiche migliorative a livello di luminescenza e durata nel tempo non abbiamo ancora parlato del lato b e del suo fondello che è saldamente avvitato alla cassa alla luce delle 10 atmosfere di resistenze viste prima non si poteva evitare un leggero effetto ciambella d'altronde l'orologio da 42 e il calibro sempre quello è anzi in luogo dell'h10 troviamo qui l'h30 ossia la versione day date derivante dall'età 28 36 le modifiche sono le stesse riservate all'h10 spirale libera in nivacron 21.600 alternanze orarie molla di carica maggiorata e treno del tempo rivisitato il tutto per fornire una riserva di carica di 80 ore diciamo che è il classico calibro preciso ed affidabile che equipaggia la maggior parte degli emilton contemporanei non rimane che disquisire a riguardo del bracciale e qui non vi sono punti deboli eclatanti a meno di non volervi inserire il sistema che tiene in sede le maglie che ha il classico pin a pressione e collarini interni per il resto abbiamo un design che non è particolarmente originale almeno a prima vista entrando poi nello specifico si scopre che il segmento centrale tanto simile all'oyster è in realtà sopraelevato rispetto al piano e mette in mostra le superfici laterali che ci appaiono inclinate e lucide una finitura che va a riprendere in maniera calcolata quella vista prima attorno alla lunetta ma vi è un terzo tocco di lucido ed è proprio nelle smussature della clasp insomma una globale satinatura con alcune piccole eccezioni ad impreziosire e la spazzolatura la si nota bene osservandolo dall'alto per tutta la sua lunghezza è ovviamente questa la finitura che lo caratterizza conferendogli quel tono di strumento che fa coppia con la testa dell'orologio per quanto riguarda le regolazioni abbiamo due mezze maglie e i classici tre forellini un insieme in grado di coprire tutte le possibili combinazioni di lunghezza da segnalare infine lo sgancio rapido delle spring bars sempre utile e bene accetto possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali cosa dire dell'orologio per me è promosso chiaramente perché non ho riscontrato dei punti deboli eclatanti ecco l'unico abbastanza soggettivo è quello del day date della finestra giorno data che ci ricorda un pochino gli orologi chip forse perché siamo abituati a vedere sempre i 6 o 5 con giorno e data o anche altri orologi un po più economici vagari con giorno e data quindi ci riporta a quel a quell'ambiente lì però insomma non è un punto debole e eclatante è lì spacca un po la simmetria del quadrante e tutto tutto lì poi il fatto che dietro ci sia un effetto ciambella leggerissimamente accentuato è dovuto al calibro al diametro del calibro e al diametro dell'orologio che fa sì che ci sia questa ciambella di acciaio attorno al vetro che è un pochino brutta vedersi anche perché è inutile mettere in mostra un calibro così industriale no ecco un suggerimento da dare a emilton potrebbe essere quello di fare degli orologi iniziare a fare degli orologi con il fondello chiuso a noi appassionati ci piacciono gli orologi col fondello chiuso ora dico noi appassionati qua in italia che poi magari nel resto del mondo il 99 per cento degli appassionati gli piace il fondello trasparente perché lo sapete che i mercati asiatici del medio oriente americani sono quelli che comandano non penserete mica che l'italia qua nel cucuzzo della montagna sia quella che comanda noi possiamo dire le cose poi è il resto del mondo che compra che vende anche se per emilton il mercato italiano credo sia il terzo al mondo se non sbaglio dopo stati uniti giappone forse c'è l'italia mi correggerà qualcuno se sbaglio va bene altri punti deboli poi non ne ho trovati non ce n'è anzi ci sono dei punti positivi che non ho detto per esempio la data il giorno il day date no che ho menzionato come punto debole ha una particolarità che scattano precisamente insieme cioè te giri la corona per settare l'orario a certo punto vedi che sia giorno che data scattano assieme non è che si va a ingaggiare due ore prima come nel 6 o 5 e il giorno parte alle due e mezza di notte no qua scattano insieme e questo è un bel tocco di precisione che mi è piaciuto molto come finalmente abbiamo un antiriflesso che fa il suo dovere perché la leggibilità di questo orologio è ottima veramente buona nonostante le sfere siano scheletrate è ottima un po meno al buio perché mancando la punta di quella delle ore avete visto ecco non si va a capire bene si capisce che ore sono però manca quel quella puntina che ti va a dire sì sono le 10 e in quarto precise no rimane un attimino così però insomma voglio dire invece la luminescenza è buona la luminescenza è buona perché ora io quando faccio queste prove qua è statica lì fermo con la camera davanti e sembrano tutti uguali c'è poco da stare a cantare e invece quando lo indosso noto che passando da una zona illuminata ad una in penombra si attivano subito gli accenti luminescenti pigmento funziona benissimo questo nuovo x1 che io la prima volta che lo sento dire nelle specifiche c'è così quindi che dirvi se volete un paio da 42 mm questo può essere sicuramente un orologio valido che nella tradizione di emilton cioè come come nella sua tradizione c'è il khaki field da campo ci sono anche gli orologi d'aviazione avete visto anche nel video che sono molto legati all'aviazione sponsorizzano addirittura l'aeroporto di bresso mettono dei fondi per sistemare gli hangar per sistemare i motori dell'aereo degli aerei insomma sono legati molto a doppio filo all'aviazione quindi un pilot nuovo in collezione di emilton ci stava la presentazione di un nuovo pilot boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi io vi ho letto l'orologio io ho esplicitato i punti deboli i dubbi e i punti forti non mi resta che quindi ringraziarvi per essere arrivati fino qua e ricordarvi come al solito gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love all'inizio all'inizio a a a Grazie per la visione!